Buonasera, professor Pievani, professore di filosofia delle scienze biologiche presso l'Università di Padova e divulgatore scientifico. Come prima domanda le volevo chiedere che cosa si intende con riscrittura del codice genetico? Che cosa significa in pratica questa espressione? La riscrittura del genoma è una tecnologia nuova che è entrata nei laboratori di tutto il mondo negli ultimi due anni, quindi se ne parla soltanto da poco tempo nel dibattito pubblico ed è una mezza rivoluzione. Noi filosofi della scienza usiamo raramente la parola rivoluzione, però in questo caso quasi, nel senso che cambia completamente il modo di fare biotecnologie e fare ingegneria genetica. Mentre prima si andava un po' a tentoni, un po' per tentativi, oggi è stato scoperto un meccanismo che è una sorta di forbice molecolare che fa quello che viene chiamato genome editing e l'editing è una metafora molto semplice, è quello che facciamo tutti quando abbiamo un file su Word e facciamo sostituisci parola o taglia e incolla, ecco esattamente la stessa cosa, entra dentro nel nucleo delle cellule un macchinario con degli enzimi, delle guide RNA che va dritto nel punto che tu vuoi correggere, come se fosse una parola, la stacca, quindi la toglie, la fa la forbice e poi incolla la parola corretta e quindi fai l'editing, la correzione di bozze del genoma in modo molto meno costoso, molto più veloce, con un accesso molto più ampio ma naturalmente questa nuova tecnologia sta anche suscitando molti dibattiti perché potrebbe avere tra le tante applicazioni molto positive anche alcune preoccupanti o comunque difficili da gestire come per esempio la modifica genetica degli embrioni umani che da questo momento in poi diventa molto più veloce e molto più facile da realizzare. Secondo lei quali sono i limiti e le innovazioni della ricerca sul DNA e intendo con limiti sia quelli etici sia quelli scientifici? I limiti etici sono legati al fatto che questa nuova tecnologia è entrata nei laboratori molto rapidamente e costa molto poco e quindi si sta diffondendo a macchia d'olio e possiamo farne un uso estremamente flessibile. Non è più necessario fare il transgenico per esempio quindi gli OGM classici non saranno più necessari perché in parte diciamo saranno molto meno necessari perché potremo correggere direttamente dall'interno il genoma senza metterci dentro dei geni di un'altra varietà ad un'altra specie cioè esogeni e tutto questo è molto veloce potremmo avere nuovi farmaci nuovi vaccini i limiti bioetici quali sono sono legati a due questioni fondamentali la prima è una domanda siamo sicuri già subito adesso di applicarli agli embrioni umani perché le prime volte in cui abbiamo provato a farlo l'embrione è stato in effetti corretto geneticamente ma è stato anche modificato geneticamente nel suo complesso in modo imprevedibile. Il mondo complesso di cui ha parlato adesso si è scoperto essere complesso anche per un altro aspetto che è l'interazione fra il nostro genoma e i nostri sentimenti morali siano quelli più alti come l'altruismo e quelli più meschini e gretti tant'è che l'espressione è scritto nel dna suona come una condanna secondo lei qual è il rapporto fra dna e appunto queste nostre parti morali io direi che è passata definitivamente l'epoca in cui dicevamo a questo comportamento è al 50% ambiente 50% geni è impossibile fare questa distinzione tranne in casi molto semplici malattie ereditarie o cose del genere c'è sempre un intreccio di geni ambiente a maggior ragione per comportamenti molto complessi come l'altruismo l'altruismo ha tante forme diverse dalla cooperazione all'altruismo puro disinteressato in campo umano poi il biologico si intreccia col culturale in modo molto stretto quindi la biologia è importante gli elementi innati sono molto importanti ma sono solo una parte della storia per concludere due domande sul festival secondo lei qual è il significato del festival letteratura di mantova e qual è il libro che rileggerebbe e perché dunque il significato del festival di mantova secondo me è si condensa in una parola che è partecipazione mantova lo dico anche l'altro elemento secondo me è un picco di civiltà che contrasta invece con il livello secondo me ancora non adeguato del dibattito pubblico generale nei media e nella politica italiana il libro guarda ne scelgo solo uno io rileggerei tutte le volte le memorie di Adriano della Jursenar ti potrà sembrare strano il mio occupo di scienza ma in realtà è un libro pieno di filosofia è un libro pieno di cultura ed è un libro secondo me eterno bellissimo grazie 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 grazie